Estremamente deludente, intanto perché è una riedizione del DEFRE di 5 anni fa, un copia e incolla che non prevede nessuna delle azioni da mettere in campo dopo la pandemia, anzi con una pandemia ancora in corso e con tutti gli effetti economici di questa pandemia. Non c'è nulla per quanto riguarda le richieste di spiegazione della lentezza dovuta ai trasferimenti del Curabruzzo 1 e 2, tagli per 50 milioni di euro, l'8% in modo lineare dal sociale ai trasporti per passare purtroppo alle imprese e a tutti gli altri settori. Nel documento strategico di questa regione non c'è una sola parola che riguardi la visione del futuro, il piano del Recovery Fund che insieme ai fondi europei 21-27 potrebbero ammontare per la nostra regione a ben 4 miliardi di euro. Tra i fondi europei e il Recovery Fund non c'è traccia di nessuna idea di questa maggioranza, davvero tanta delusione, il trattamento di questo documento è stato di tipo burocratico ma soprattutto un copia e un colla senza idee e con tanti tagli, ecco perché noi ci esprimiamo negativamente.